Quando abbiamo deciso ieri di destinare 5 dei 20 miliardi stanziati con il decreto approvato in Parlamento nel mese di dicembre, 5 di quei 20 miliardi andranno all'intervento per le banche venete, io mi auguro poi che la gestione dei crediti deteriorati, ai quali sono destinati in larghissima parte questi 5 miliardi, consenta di recuperarli in tutto e in parte nei prossimi anni. Dipenderà dalla qualità della gestione di questi crediti deteriorati e dipenderà anche in generale dall'andamento e dal miglioramento dell'andamento della nostra economia. Credo che sia non solo legittimo, ma doveroso per un governo serio, per uno Stato come lo Stato italiano, farsi carico di problemi che possono intervenire nelle nostre imprese e nelle nostre banche. Sarebbe singolare il contrario. Ho sentito qualcuno parlare di regalo ai banchieri. Penso che chi fa un discorso di questo genere faccia della cattiva propaganda.